e benvenuti alle premiazioni per la seconda edizione del torneo di beachball di Saleruccio del Sannio e allora adesso inizieremo le premiazioni professor Giacomo Varricchio come miglior supporto e insegnante di pallopolo a Saleruccio del Sannio allora un ringraziamento al professore per aver insegnato la pallopolo a Saleruccio del Sannio professore adesso per tutti i tecnici creiamo subito la squadra fantasia e ideazione valle premia Nicola Donisi la testa di legno, la famosa testa di legno italiana ti concedo questo premio grazie io vorrei un applauso a Saleruccio del Sannio grazie di tutto andremo a fare del discorso da sopra ringrazio il forum giovanile, ringrazio la loro attività ancora un applauso grazie mille premiamo la Miss più Miss del torneo premia Luigi Pinto a Maio Valentina Saleruccio del Sannio Sport News il premio Miss più Miss va a Maio Valentina di Saleruccio del Sannio Sport News il premio è a Lorenzo Ranauro parrucchiere Antonio Felleppa squadra è un applauso per il migliore under 15 quindi il più piccolo del torneo premio che va alla squadra soffocati dai soffogoni premia Pirino De Luca delegato alle politiche giovanili ritira il premio Stefano premio un applauso a Stefano per i soffocati premia Fabiola Cavuto delegata del forum squadra del cuore premio fedeltà il premio va alla squadra dei e i leoni ecco i leoni squadra del cuore premio fedeltà ok grazie adesso siamo alla squadra squadra simpatia e squadra più elegante Pulcinella Ciccio Colai i Finis Dei premia Ettore Annace Fuora ok 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 continuiamo con le premazioni e adesso il premio va nemici si nasce amici si diventa premia Donatella Manco delegata del forum se c'è la squadra può venire a ritirare il premio ecco due giocatrici di questa squadra un grande applauso per la squadra più giovane di questo torneo il premio Waka Waka per quest'anno è aggiudicato a Frusce Primera premia Pasquale Zollo ok il premio allora la squadra Frusce Primera Waka Waka è il premio un applauso per la Frusce Primera allora miglior squadra del torneo premia Luigi Pinto e il premio va a Baia San Felice ecco i ragazzi di Baia San Felice che ritirano il premio miglior squadra premia De Luca Quirino tutte e due le squadre Olimpia e Strafazzetti Picche squadra Eiffel Play allora per Olimpia viene a ritirare il premio Andrea ok Strafazzetti Picche se c'è qualcuno premia Fabio Lagavoto ed è Lorenza Catalano Sporting Team Caffè Latino miglior giocatrice del torneo Lorenza premia Ettore Yannace e il premio è a Michele Yacicco Sanio Sport News per il torneo del prosciutto è la squadra mannoio o non mannoio premia Pellegrino Cavoto delegato al comune alle politiche giovanili dolcetto girano girano quindi ritirano il premio la squadra mannoio o non mannoio un applauso per la squadra che ha vinto il torneo interno del prosciutto che andava alle squadre che erano uscite ok come forum volevamo ringraziare avevamo l'obbligo di ringraziare il delegato allo sport Vanorio Valtiero che viene a ritirare il premio premia il vice sindaco Aldo Furbi il premio è per il ringraziamento e la collaborazione data dal delegato allo sport a San Neu un ringraziamento con la pergamena grazie premia il delegato alle politiche giovanili Cavoto Pellegrino che ringraziamo per tutto il supporto e per averci aiutato in questa esperienza seconda esperienza del vice volley a San Neu e vanno al nostro arbitro Donald Mustacciola premia Fabiola Cavuto un ringraziamento anche al delegato al comune che ci ha aiutato dallo svolgimento della manifestazione selezza il nostro secondo arbitro va bene anche come primo arbitro Domenico Varricchio che comunque ha dato un grande supporto al forum dei giovani premia Fabiola Cavuto lo ringraziamo grazie per averci supportato siamo alle prime tre classificate di questo torneo di beach volley alla terza classificata che va una coppa più un buono ricarica la squadra è gli zingati bravi un applauso per gli zingati terzi classificati al torneo la squadra è terza classificata del torneo alla seconda classificata va una coppa più una cena offerta dal ristorante della giara la squadra è san mio sport news seconda classificata del torneo prima squadra classificata alla seconda edizione del beach volley a San Leucio del Zagno organizzato dal forum dei giovani di San Leucio premia il sindaco dottor Carlo Iannace alla prima squadra va una coppa più un buono di 200 euro ed è la squadra Sporting Team Caffè Latina è il campione per il campione Questo anno l'appuntamento del bici volley è finito, abbiamo premiato tutte le squadre che hanno meritato sul campo e l'appuntamento speriamo è all'anno prossimo per la terza edizione. And we'll keep on fighting till the end. We are the champions. We are the champions.